Asia Argento ha violentato un diciassettenne, un giovane attore dedito alla droga e al sesso, trecentottantamila dollari per farlo tacere. Di colpo è diventato il paladino dei giovani abusati dalle donne. Mi dico, ma siamo tutti impazziti? Siete tutti impazziti? Abusato? Chi? Un giovane maschio normale non può essere violentato. I suoi istinti dicono, basta che respiri.